Nel nome del Pano, la Madre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Aveo Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si è fatto di me, secondo la tua parola. Aveo Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Verbo di Dio si è fatto uomo e bene ad abitare in mezzo a noi. Aveo Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Invonti in noi la tua grazia, il Signore. Per l'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'ingarnazione di Cristo, tuo Figlio. Per la sua passione morte concede a noi di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Oggi portiamo lo sguardo, lo sguardo del cuore, lo sguardo della fede, al di là del buio della passione per fissarlo sul Cristo risorto e glorioso. Rivivere la gioia degli Apostoli, di Maria. Rivivere la gioia della speranza nella dimora eterna che Gesù ha preparato per tutti i Suoi discepoli fedeli. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. La risurrezione non è un semplice ritorno alla vita terrena, ma è un salto decisivo verso una vita profondamente nuova e l'ingresso in un ordine decisamente diverso che ha riguardato Gesù e che riguarda anche tutti i Suoi fedeli. Anche noi preghiamo e chiediamo a Maria il dono di poter vivere sempre da risorti e con la certezza che una grande gioia è preparata per noi per l'eternità. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose e la Tua misericordia. Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo Ascendendo in cielo Gesù ordina ai Suoi di andare in tutto il mondo e predicare il Vancello. Questo invito nel corso dei secoli è stato raccolto da numerosi, coraggiosi e generosi fratelli. Ti preghiamo o Regina dei veri cristiani di renderci veri missionari del Vancello. Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo com'era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'isperno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose la Tua misericordia. Nel terzo mistero glorioso meditiamo sulla Pentecoste lo Spirito Santo promesso da Gesù scende su Maria e gli Apostoli e Pietro alla folla turbata spiega si tratta del compimento della profezia di Gioele su tutti effonderò il mio Spirito e tutti profeteranno. preghiamo Maria Santissima la nostra Mamma perché ci renda docili all'azione dello Spirito Santo in noi. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal mal. Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen. Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen. Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen. Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen. Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen. Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen. Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen. Aveo Maria piena di grazia il Signore è con Te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen. O Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel quarto mistero glorioso meditiamo l'assunzione di Maria in cielo Maria è l'immagine della nuova Gerusalemme gloriosa piena di luce innalzata alla gloria del cielo Maria è la porta del cielo Maria ecco lei che ci guida verso il suo figlio Gesù concedici o Maria Madre nostra di seguirti nella docilità alla volontà di Dio e nelle virtù soprattutto l'umiltà Padre nostro che sei di Cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo Regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori adesso è nell'ora della nostra morte gloria al Padre gloria al Padre e al Figlio e al Spirito come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen O Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Regina degli Anci e dei Santi Io vado dice Gesù ascendendo al cielo a prepararvi un posto e San Paolo ci ricorda che se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio coeredi di Cristo e seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati concedici o Maria di credere fermamente che il Signore ci vuole tutti con Lui in Paradiso Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ame Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli ame o Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della Tua misericordia preghiamo per Papa Francesco Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli Amen La nostra preghiera a San Giuseppe Salve custode del Redendore e sposo della Vergine Maria a te Dio affidò il suo figlio in te Maria ripose la sua fiducia con te Cristo diventò uomo o Beato Giuseppe mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita ottienici grazia misericordia e coraggio e difendici da ogni male Amen Salve o Regina Madre di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve a te ricorriamo noi esuli figli di Eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o via o dolce Vergine Maria Signore Pietà Signore Pietà Cristo Pietà Cristo Pietà Signore Pietà Signore Pietà Signore Maria prega per noi Santa Madre di Dio prega per noi Santa Vergine delle Vergini prega per noi Madre di Cristo prega per noi Madre della Chiesa prega per noi Madre della misericordia prega per noi Madre della divina grazia prega per noi Madre della speranza prega per noi Madre purissima prega per noi Madre castissima prega per noi Madre sempre Vergine prega per noi Madre Immacolata prega per noi Madre degna d'amore prega per noi Madre ammirabile prega per noi Madre del buon consiglio prega per noi Madre del creatore prega per noi Madre del salvatore prega per noi Madre di misericordia prega per noi Vergine prudentissima prega per noi Vergine degna di onore prega per noi Vergine degna di lode prega per noi Vergine potente prega per noi Vergine clemente prega prega per noi Vergine fedele prega per noi specchio della santità divina prega per noi sede della sapienza prega per noi causa della nostra letizia prega per noi tempio dello spirito santo prega per noi tabernacolo dell'eterna gloria prega per noi dimora tutta consacrata a Dio prega per noi rosa mistica prega per noi torre di Davide prega per noi torre d'Avorio prega per noi casa d'oro prega per noi arca dell'alleanza prega per noi porta del cielo prega per noi stella del mattino prega per noi salute degli infermi prega per noi rifugio dei peccatori prega per noi conforto dei migranti prega per noi consolatrice degli afflitti prega per noi aiuto dei cristiani prega per noi regina degli angeli prega per noi regina regina dei patriarchi prega per noi regina dei profeti prega per noi regina degli apostoli prega per noi regina dei martiri prega per noi regina dei veri cristiani prega per noi regina delle vergini prega per noi regina di tutti i santi prega per noi regina concepita senza peccato originale prega per noi regina assunta in cielo prega per noi regina del santo rosario prega per noi regina della famiglia prega prega per noi regina della pace prega per noi regina del cielo e della terra prega per noi agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci Signore agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci signore agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi prega per noi Santa Madre di Dio affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo O Dio il tuo unico figlio Gesù Cristo ci ha meritato i beni della salvezza eterna con la sovita morte e risurrezione a noi che con il santo rosario della beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri concedi di imitare ciò che contengono e di raggiungere ciò che promettono per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi e con il tuo Spirito sia benedetto il nome del Signore ora e sempre il nostro aiuto è nel nome del Signore e gli ha fatto cielo e terra vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Nel nome del Signore andiamo in pace rendiamo grazie a Dio grazie a Dio Grazie. 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 Grazie.